tempo di fotografia abbiamo chiesto a max spinolo di parlarci del suo prossimo corso il prossimo corso sarà a monza a partire da giovedì 2 maggio a chi è rivolta questa nuova proposta si tratta di un corso base quindi particolarmente rivolto a chi vuole avvicinarsi alla fotografia o comunque semplicemente apprezzare le immagini degli altri come è strutturato il tuo corso beh si tratta di otto incontri in totale con due esercitazioni in esterno e moltissima pratica perché la macchina fotografica l'avremo in mano tutte le sere è possibile iscriversi disponendo solo del telefono cellulare assolutamente sì anzi uno degli argomenti sarà proprio l'utilizzo consapevole di questo strumento tieni corsi di fotografia da più di 35 anni un augurio rivolto a chi intende iniziare questa avventura certo come no fidati di me fidati di te e buon divertimento